Le stelle della ristorazione, evento giunto alla dodicesima edizione del simposio nazionale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani per la prima volta in Calabria, nella sede della cittadella regionale a Catanzaro. Due giorni di formazione, confronto e degustazioni guidate dedicato a cuochi e ristoratori, ma anche all'Assemblea Generale dell'Associazione, alla quale hanno preso parte oltre 120 chef in rappresentanza delle delegazioni regionali ed estere e per festeggiare i 20 anni dell'Associazione accolta dal Presidente della Regione Mario Liverio. In questo ambito, la nostra regione nel corso di questi anni ha fatto notevoli passi avanti. Non è più una regione marginale nella offerta enogastronomica nazionale. In questo senso stiamo investendo molto, anche attraverso la proiezione in appuntamenti internazionali e nazionali. Nella Sala Verde della cittadella sono stati poi consegnati i premi alla carriera, le giacche delle stelle della ristorazione, a circa 100 cuochi professionisti e un premio speciale a 16 chef che rappresentano le eccellenze del territorio calabrese. Rossella Galati per l'AC News24